Sono arrivata a un punto tale che sono assolutamente certa di quello che non voglio e so con totale chiarezza cosa non mi piace e quindi su questi due aspetti io sono assolutamente, ho le idee totalmente chiare. Se tu sai con chiarezza ciò che non vuoi invece di ciò che vuoi, ti stai per caso domandando come mai ottieni sempre quello che non vuoi? Devi sapere che grazie al sistema reticolare il nostro cervello si attiva soltanto su alcuni aspetti sui quali noi focalizziamo maggiormente la nostra attenzione, portandoci a trovare le soluzioni alle domande che ci poniamo. In più ti dico anche un'altra cosa, la nostra mente se ci pensi bene non percepisce il non. Cosa significa? Ti faccio subito un esempio così lo mettiamo in pratica subito insieme. Se io in questo momento ti dicessi non pensare al Colosseo oppure non pensare alla Torre di Pisa, nella tua mente che cosa si accende? Che cosa visualizzi? Probabilmente esattamente loro, il Colosseo e la Torre di Pisa. Ti sarà mai capitato di andare e di dover scegliere l'auto nuova, no? Quindi di andare dalla concessionaria, individuare il modello e magari essere un po' dubbiosa sul colore della macchina. Magari aspetti un attimo, esci dalla concessionaria e incredibilmente, mentre giri con la tua macchina, cominci a individuare e a riconoscere lo stesso modello della macchina che tu hai scelto in svariati colori. Magia? E quindi capisci quanto è importante cominciare a focalizzarsi, a individuare quelle che sono le cose che realmente vogliamo, a focalizzare la nostra attenzione non su quello che non vogliamo e che non ci piace, ma su ciò che vogliamo e su ciò che ci piace. E se iniziassi a chiederti invece di cosa non vuoi, che cosa vuoi, che cosa vorresti ottenere, che cosa desideri veramente raggiungere, cosa succederebbe? Il punto è quindi se è il caso di cominciare a farci delle domande giuste, personalmente da quando ho cominciato a farlo qualcosa è cambiato.